Credere, credere, credere ancora Ora la guerra paura non fa Brucia nel fuoco le divise la sera Brucia nella gola vino a sazietà Cantava Roberto Vecchioni O meglio, lui cantava Ridere, ridere, ridere ancora E allora ridiamoci su La focus del 24 aprile 2018 Per noi l'atmosfera di Urano Puzzerebbe di uogo a marce Un caso unico nel sistema solare Che al di là della curiosità Può dire molto sull'origine del sistema stesso Dal thrilling del 29 marzo 2017 Urano, il gigante gassoso Il terzo pianeta più grande Del nostro sistema solare Chiamato per il dio greco dei cieli Ha un grande segreto Puzzolente che è stato mascherato Dal vuoto dello spazio da tempo immemorabile Puzza come le scorregge Dal space.com Dal 24 agosto 2022 La NASA vuole davvero sondare Urano E potrebbe iniziare a pianificarlo Il prossimo anno Ma probabilmente non raggiungeremo Il pianeta prima del 2040 Aspettare sai Non è facile Cantava sempre Roberto Vecchioni Non c'è dubbio Che abbiamo imparato molto Sul nostro sistema solare Negli ultimi sei decenni e mezzo Di voli spaziali Ma ci sono ancora misteri In agguato dietro ogni angolo Ma un momento eh Non c'è nessun angolo Nel sistema diocentrico Non scrivete cazzate Fa nulloni che non siete altro Dalla NASA 1 luglio 2022 Assistenza gravitazionale Piovono diamanti Su questi pianeti Urano e Nettuno Sono due dei tanti Oggetti stimolanti E misteriosi Del nostro universo Che il James Webb Space Telescope Inizierà presto ad esplorare Le condizioni di temperatura e pressione Sono così estreme Su questi pianeti Tanto che gli atomi di carbonio Potrebbero trasformarsi In diamanti Nelle loro atmosfere C'è anche su spazio Astronomia Del 6 settembre 2022 Piovono diamanti Su molti più pianeti Del previsto E ora sulla Terra Si possono ottenere Anche dalla plastica PET Le piogge di diamanti Potrebbero essere più comuni Del previsto Sui pianeti giganti ghiacciati Merito dell'ossigeno Che potenzia Queste esotiche precipitazioni Attraverso un processo Che potrebbe essere Sfoltato anche sulla Terra Per trasformare La comune plastic PET In diamanti Da usare In una vasta gamma Di applicazioni Dalla somministrazione Di farmaci Alla chirurgia Dalla produzione Di sensori All'elettronica quantistica E beh sì D'altra parte Un diamante È per sempre E questa che vedete È la luna Io Di Giove Il satellite naturale Geologicamente più attivo Del sistema solare A causa dell'intensa Attività vulcanica Svolta dai 400 Vulcani attivi Io Ha preso il nome Di pizza Per via della somiglianza Io È fortemente influenzato Dal campo gravitazionale Dell'enorme pianeta Giove Attorno al quale orbita Nonché dall'interazione Gravitazionale Con i satelliti vicini A causa di queste Influenze esterne Fortemente esercitate Sul satellite Io Sorgono forze Di attrito Interne Che portano Al riscaldamento Delle maree Che a sua volta Contribuisce Alle eruzioni vulcaniche Si vede che è vero Non potete metterlo In dubbio E questo che vedete È l'esagono Di Saturno Si tratta di una Particolare conformazione Nuvolosa Di forma esagonale Persistente Al polo nord Di Saturno La conformazione Nuvolosa ruota Intorno al vortice Centrale del polo nord Di Saturno Con un periodo Di 10 ore 39 minuti E 24 secondi Lo stesso periodo Delle emissioni radio Interno del pianeta E non si sposta Longitudinalmente Lungo il pianeta Come le altre nuvole Dell'atmosfera Visibile Ma rimane Al contrario Piuttosto stabile Sapete che è vero Proprio perché Sembra così falso Come ha detto Elon Musk E questo è Plutone In inglese Pluto Scoperto nel 1930 Lo stesso anno In cui è stato disegnato Il cane Pluto Di Topolino Dalla Disney Ma è solo una coincidenza Ovviamente Lo trovate anche Su un indice alfabetico Sotto la voce Plutone Un cartone animato Inventato nel 1930 Questo invece È Giove E quello che vedete qui Non è un delfino Vero che può sembrare Un delfino Ma non è un delfino Assolutamente Sono formazioni Gassose Che si sono divertite Ad assumere la forma Di un delfino Ma non è un delfino E qui abbiamo L'orso su Marte Il satellite della NASA Scatta una strana formazione Sembra la faccia Di un gigantesco orsacchiotto Che scrutta nello spazio Dalla superficie di Marte Ma gli esperti Dicono che in realtà È un'immagine satellitare Che presenta alcuni crateri E una frattura circolare Non è un orsacchiotto Assolutamente È solo una coincidenza Che possa sembrare Un orsacchiotto Quella che vediamo adesso È la famosa Biglia blu Del 2015 Notate qualcosa di strano? No! Infatti è difficile Ma capovolgiamo l'immagine Le nuvole sulla Terra Scrivono nel cielo La parola sex Ma è un caso Solo un caso Una pura coincidenza Queste linee diritte Delle nuvole Sono naturali Succedono sempre Come il sole Che sorride Nell'ultima fotografia Della NASA Viste alla luce ultravioletta Queste chiazze scure Sul sole Sono conosciute Come buchi coronali E sono regioni Dove il veloce evento solare Sgorga E fuoriesce nello spazio È assolutamente normale Perché arriva dalla NASA Dall'osservatorio dinamico solare L'immagine è vera È stata scattata Il 26 ottobre 2022 Vi lascio con questa ultima immagine In cui trovate il link Nella descrizione del video È l'astronauta Rex Wallheim Che sta operando All'esterno del modulo europeo Columbus Il laboratorio scientifico orbitante Dell'ESA Sulla stazione spaziale internazionale Che è stato utilizzato Per coltivare piante A ricercare nuovi metalli E sondare il sangue Il corpo e il cervello Degli astronauti Se lo trovano Ma un momento Gli stivali sono calzati correttamente Sono il contrario Nella posizione sbagliata Ma chi cavolo è Che assume questi astronauti Che non sanno nemmeno Mettersi gli stivali Ma credete veramente Che questi stivali Tengono nel vuoto? Come vedete Ci ingannano su tutto Come lo sbarco sulla Luna Perché se non lo sapete L'equipaggio dell'Apollo 11 È presente Nella passeggiata Ollywoodiana Delle celebrità Se non capite questo Il problema siete voi È tutta una recita A forza di mentire Il cervello diventa Sempre meno sensibile Alla disonestà